Pachino controllo contro il caporalato, fioccono 55.000 euro di sanzioni denunciate a tre persone. Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno effettuato un servizio di vigilanza straordinario nel settore agricolo in provincia. Nei giorni scorsi sono state ispezionate altre quattro aziende agricole tra Siracusa e Pachino nell'ambito dell'attività contro il caporalato. Complessivamente sono stati controllati 32 lavoratori, tre dei quali sono risultati in nero e contestate violazioni amministrative per oltre 55.000 euro, oltre alla denuncia dell'autorità giudiziale di tre amministratori e titolari delle aziende. Controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste rispetto al fenomeno del caporalato che mette barbaramente a rischio la vita delle persone e alimenta irregolarità e agromafia a garantire un giusto reddito potenziando lo strumento dei contatti di filiera. A quanto dichiarato dalla Coldiretti in occasione del tavolo convocato dal Ministero del Lavoro nella presenza della Ministra Elvira Calderone, del Ministro dell'Agricoltura e della Solanità Alimentare, Francesco Lollobrigi, dei controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa e del Nucleo Spetturato del Lavoro nell'ambito del settore agricolo contro il caporalato proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio della provincia.